Il buco nero nei conti del comune di Venafro si allarga sempre di più, allarmando non solo i cittadini venafrani, ma anche gli amministratori e lo stesso sindaco Alfredo Ricci, che si mostra preoccupato, ma tende comunque a scaricare sulle precedenti amministrazioni le responsabilità della voragine milionaria nel bilancio comunale. La sentenza della Corte dei Conti regionale è stata durissima. Venafro non ha rispettato il programma di rientro dai debiti e la situazione è addirittura peggiorata. Buono dal suo canto ha chiesto un consiglio comunale straordinario, ma Ricci mantiene la sua freddezza, respinge anche la sola ipotesi di un dissesto ventilata dai giudici contabili e preannuncia il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti di Roma. Venafro non è in dissesto. Venafro ha avuto un programma pluriennale decennale a cui aveva aderito il comune nel 2014-16 per far fronte alle situazioni debitorie che si erano prodotte nei primi anni 2000. Io allora ero studente universitario e non immaginavo che dopo oltre 20 anni mi sarei trovato a gestire gli strascichi di quel periodo. È stato bocciato il piano di riequilibrio all'epoca approvato. Questo è vero, comporterebbe il dissesto se non ci fosse quello che ci sarà, cioè un ricorso. Perché con tutto il rispetto per la decisione presa da un organo sicuramente adorevole, quale è la sezione controllo della Corte dei Conti Molise, però i parametri, i numeri, i conti del comune di Venafro non ci sembrano che possano giustificare un dissesto. Ma non è che non sembrano a me che sono sindaco e faccio un altro mestiere, non sembrano ai tecnici che abbiamo consultato prima e dopo la prematura scomparsa lunedì del responsabile finanziario. E quindi poiché la legge consente di contestare questa decisione con un ricorso alle sezioni riunite in composizione speciale della Corte dei Conti noi probabilmente già oggi come Giunta Comunale delibereremo il ricorso avverso questa decisione che comporta chiaramente una sospensione, uno stand-by della procedura e soprattutto un riesame accurato da parte di un organo terzo.